Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, oh Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la vera luce, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i svoi, e i svoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare fili di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me, è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Io nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore, lode a te, oh Cristo. lode a te, oh Cristo. Parola del Signore, Cari fratelli, sorelle, è particolarmente solenne l'inizio del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. Sono proprio le prime parole del Vangelo di Giovanni, il prologo. È tanto solenne, tanto alto, che potrebbe sembrare lontano, poco quotidiano, poco comprensibile, solo una serie di concetti astratti difficili da comprendere. Eppure il prologo del Vangelo di Giovanni parla in modo molto concreto di una storia di amore, anzi della storia di amore più grande, in cui sono coinvolto anch'io e anche tu. Tutti noi. È coinvolto ciascuno di noi, ciascun uomo e donna sulla Terra. Una storia in cui il mio partner è infinitamente più grande di me. È colui dal quale tutto ha avuto origine, ma proprio tutto, anch'io stesso e anche tu. È colui che mi ha voluto per amarmi. È colui che è al fondamento di tutto. È il sostegno, la ragione, il senso di tutto ciò che esiste. È il motivo della mia stessa esistenza. È l'imprincipio senza il quale io non sarei venuto al mondo e nemmeno tu. E senza il quale non potremmo vivere, né sperare, né amare. Il suo amore non è passeggero, come un'emozione temporanea, come una passione fra le altre, come una breve storia giovanile. È amore unico, indefettibile, totale e totalizzante. Non distratto, non smemorato. È l'amore talmente coinvolgente e appassionato di chi è disposto a rinunciare a se stesso, alle proprie prerogative, adeguandosi all'altro. È disposto a rinunciare alla propria stessa vita, per dare vita all'altro. per questo suo amore Dio ha scelto di vivere nella mia stessa carne, di condividere la mia umanità. Lui, l'Eterno, è entrato nel tempo, nella mia, nella nostra storia, che è così transitoria e fragile, segnata dal peccato. Così Lui, per amore, l'ha redenta, l'ha liberata, questa mia storia, da ogni ostacolo che le impedisse di rivolgersi a Lui, di ricambiare il suo sguardo, il suo abbraccio, il suo amore. Dio è venuto nel mondo perché la sua presenza potesse essere palpabile, perché noi potessimo vederlo, toccarlo, addirittura perché delle creature umane potessero accoglierlo tra le braccia come un bambino, tenero e fragile. Così, dopo avere creato la nostra carne e averle dato il suo soffio di vita, Dio l'ha resa ancora più preziosa, venendo a condividerla questa carne, a farla sua. Noi siamo infatti della stessa carne che Dio ha scelto per il suo figlio. Nulla può essere sprecato della mia vita e della vita di ogni uomo, di ogni donna. Nulla può essere tolto, sottratto, sottovalutato. La vita di ogni persona è sacra perché è la stessa vita che Dio ha scelto venendo nel mondo, perché è vita voluta e amata da Lui. Natale è la conferma di tutto questo. La storia di storia di amore di Dio con l'umanità, con me, con te. Storia di amore a lieto fine, questa sì, a lieto fine, perché è originata da Colui che mi ha amato fino alla fine, fino a consegnarsi interamente per me, fino a morire d'amore.